Le nubi erano già dense all'orizzonte da qualche giorno a questa parte, ieri al termine di un consiglio di amministrazione straordinario è venuta giù la burrasca. Angelo Tuccio si è dimesso da presidente del Gela Calcio, prende al suo posto Francesco Tuccio, portavoce, è stato nominato il vicepresidente Egidio Alma. Al di là di una fisiologica rimodulazione delle cariche dirigenziali, il problema c'è, esiste ed è traumatico. La società biancazzurra infatti ha deciso di rimanere a disposizione solo fino a mercoledì 3 agosto prossimo per verificare l'eventuale interesse di terzi a rilevare in toto il club. In sostanza la società è in vendita. Questa dirigenza infatti ha deciso di scrivere la parola fine alla propria esperienza nel calcio. Il genere è regolarmente iscritto al campionato di Serie D, i programmi erano stati assolutamente rispettati e ci eravamo mossi per come avevamo promosticato di fare. La squadra rimane iscritta, quindi la squadra non viene ad essere ritirata dal campionato, lasciando la possibilità a chi è interessato a rilevarla e a continuare, trovandosi già una situazione ben definita che è tutto quello dell'escrizione, se c'è qualcuno che è interessato di farsi avanti e di vedere se ci sono le condizioni per questo passaggio di testimone. In caso contrario non si può lasciare una squadra se non c'è una struttura. I giocatori saranno messi di libertà anche perché se dovesse questa cosa sfociare per come si teme che sfoci saranno automaticamente liberi e quindi avranno la possibilità di accasarsi in tempo utile prima che cominci il campionato. Per il giocalcio non è fatto facile mettere in sintonia varie componenti attorno ad un progetto sportivo. Bisogna fare la sintesi fra esigenze contrastanti e sensibilità diverse. È una sfida difficile soprattutto quando si arriva a constatare che la mancanza di sintonia è figlia di forti ostilità e vere contrapposizioni. È tutto sbagliato sia le ostilità che le contrapposizioni, ma è sbagliato anche il progetto che, dice il club, abbiamo immaginato di dare alla città, pensato in sintonia con la sua grande storia calcistica. La stessa nostra esperienza, che proprio quest'anno compie dieci anni, è la testimonianza che aggela tutto e complicatissimo. La misura dell'inadeguatezza del progetto e della nostra idea di calcio si appalesa laddove una semplice e fisiologica esigenza di uno stadio adeguato alla crescita di una squadra di calcio diventa argomento di guerriglia urbana. Tutto questo addirittura appena tre mesi dopo la grande conquista del prestigioso campionato di Sredì. Tutto assurdo. Non ci teniamo affatto ad essere percepiti come un problema. Eravamo convinti, invece, di essere una risorsa al servizio della città. Questo progetto Gela, pensavamo, potesse essere un progetto condiviso e condivisibile. Ci siamo accorti che non lo è e a questo punto abbiamo ritenuto opportuno. Nel momento in cui ci siamo accorti che anziché risolvere un problema lo costituiamo noi e abbiamo deciso di staccare la spina e di rimuovere il problema. Tutto qui. E adesso cosa accadrà? Si prevedono giorni molto caldi. Chi ricopre ruoli ben definiti al Comune faccia sentire la propria voce. Subito, con i fatti, solo tre mesi dietro, dinanzi ad uno stadio strapieno, abbiamo conquistato la Serie D, cioè dire la quinta promozione di fila.